Sul mercato dello spaccio al dettaglio avrebbero fruttato almeno 10 milioni di euro, una montagna di droga alle oltre due tonnellate di marijuana purissima, suddivisa in pacchi di circa 20 chili ciascuno, scovate dai carabinieri della compagnia di Giulianova in un deposito nelle campagne di Fossacesia in provincia di Chieti. I militari sono arrivati al nascondiglio della droga dopo alcuni giorni di penitamenti. Seguivano un 49enne pugliese originario della provincia di Brindisi, Giovanni Carabotti, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. L'uomo era stato fermato nei giorni scorsi per un normale controllo stradale dal personale di una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia Giuliese. Carabotti viaggiava a bordo di una potente auto di lusso e alloggiava in hotel a Roseto degli Abruzzi. Nell'ultima settimana, seguendo i suoi spostamenti, è stato accertato che faceva la spola proprio tra Roseto e Fossacesia. L'uomo dunque è caduto nella trappola tesa dai carabinieri e li ha condotti al deposito. Quando ha capito di essere stato scoperto, ha tentato la fuga innescando un rocambolesco inseguimento lungo la Fondovalle Sangro, una scena da film che si è conclusa nei pressi del casello autostradale di Val di Sangro, dove i militari sono riusciti a fermare la corsa della vettura procedendo all'arresto di Carabotti, ora rinchiuso nel carcere di Lanciano. I militari dell'arma, oltre al quantitativo di droga trovato all'interno di un furgone parcheggiato nel deposito, hanno sequestrato anche sulla spiaggia un potente gommone della lunghezza di circa 10 metri con due motori fuori bordo della potenza di 500 cavalli ciascuno, abbandonato in fretta e furia da chi evidentemente aveva trasportato lo stupefacente, molto probabilmente dalla rotta balcanica. Abbiamo arrestato comunque il responsabile, che è un pugliese, e recuperato tutta la droga che adesso comunque dobbiamo analizzare e vediamo un attimino di avere anche dei risvolti a livello poi di polizia giudiziaria, anche perché non può una persona comunque gestire da sola un ingente traffico del genere, che quasi sicuramente comunque proviene dalla rotta balcanica.